In quale città d'Italia? E in quale città d'Italia? Mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione all'interno di uno stadio... Ripeto, in quale città d'Italia? Mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione... Aspetta, all'interno di uno stadio... Sono stati rubati i nuovi faretti nei bagni? In quale città d'Italia? Torino forse? Bari forse? No, amici miei, solo in una città sono stati trafugati 12 faretti durante i lavori di ristrutturazione... 7 in un bagno, 5 in un altro... Questa città qual è? Ma è molto facile... E dai ragazzi, su dai...